Allora ragazzi, stasera, stasera, volevamo festeggiare la festa di Natale. Allora ragazzi, volevamo augurarvi a nome della direzione di tutti i nostri operai, operatori, e tanti auguri di buone feste, soprattutto serenità, anche se manca salute, anche se sono giornate giù, cerchiamo di tirare avanti, essere forti, non arrendersi mai e con serenità affrontare ogni giorno dell'anno, va bene? Auguri di cuore, tanti 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 auguri, un bacione a tutti! Grazie a tutti!